Buongiorno ragazzi, partiamo dall'inizio contestualizzando e cominciamo con una panoramica storica sul Settecento. Se per i primi anni del Settecento nel milanese e nel napoletano sono gli spagnoli a governare, spadroneggiando un po' abituati come erano a godere dell'altrui senza faticare troppo, anche nei territori iberici l'oro venuto dall'America, che aveva abituato proprio il popolo a non lavorare e a non produrre, comincia a scarseggiare e in Spagna si avvertono i primi colpi della crisi economica. Morto senza eredi il sovrano spagnolo Carlo II d'Asburgo, fra i sovrani europei si scatena una lunga lotta per la successione in cui la penisola italiana, con i suoi Savoi a Torino, i Medici a Firenze, i Borboni a Napoli, diventano merce di scambio tra le grandi potenze. A metà del Settecento in sostanza la penisola italiana è sottoposta per lo più al dominio più o meno diretto dell'Austria. 50 anni di pace gli consentono una nuova vita, i danni di guerra vengono pagati, le città si popolano, il commercio cresce, le campagne vengono coltivate, un soffio di novità pervade tutta la penisola. Siamo nel secolo dei lumi, secolo critico in cui la cultura, il pensiero, l'economia fanno passi da gigante. A Milano sotto l'egida competente di Maria Teresa d'Austria si pubblicano riviste letterarie di agricoltura, di medicina, riviste dedicate alle donne dove vengono dibattuti i problemi del momento e le nuove idee corrono e arrivano attraverso questi mezzi di comunicazione, primi mezzi di comunicazione di massa a molti. Di questo insieme a noi interessa l'antica e gloriosa Repubblica di Venezia che come la Spagna in questo periodo patisce, decade sotto i colpi dell'Austria, pur rimanendo indipendente non riesce a fare fronte all'Austria che dal porto di Trieste cerca di dominare sull'Adriatico. Ma sul piano artistico la serenissima Venezia brilla sempre. Antonio Canal, detto il Canaletto, spopola con le sue vedute, Tiepolo con le sue figure giunoniche di donne bellissime, Rosalba Carriera con i suoi ritratti nei quali le capigliature sono raffigurate come delle vaporosissime parrucche bianche borotalcose cotonose, i longhi Pietro e Alessandro che realizzano dei quadri in cui insieme a persone che riconoscibilmente sono vestite con abiti attuali del Settecento campeggiano degli elementi esotici come per esempio quel quadro dove è centrale la figura di un rinoceronte. Vivaldi, detto il prete rosso, con la sua musica descrittiva comporrà le celeberrime quattro stagioni. E poi arriviamo finalmente alle commedie, commedie che vengono pubblicate da Piero Chiari e anche da Carlo Gozzi che sarà il più acerrimo rivale di Carlo Goldoni. Ci interessa particolarmente Goldoni perché sarà proprio lui a riformare nel Settecento il teatro in Italia. Per Italia naturalmente intendiamo la penisola perché sappiamo bene che l'Italia era lontano da venire ancora nel Settecento. Per comprendere il significato della riforma di Goldoni è utile cercare di capire quale fosse il teatro comico in quegli anni. Il genere in voga era la commedia dell'arte, una tradizione dalla quale persino Molière in Francia aveva imparato i segreti dell'arte scenica e spopolato con le sue commedie nel teatro del Seicento. Tra i tipi più noti nelle corti europee il bergamasco arlecchino, servo sciocco, ladro, bugiardo, imbroglione, in perenne conflitto col proprio padrone e costantemente preoccupato di racimolare Danaro per placare la propria fame insaziabile. La commedia italienne fu fatta conoscere in Francia da Caterina de' Medici e arrivò dalla Francia per esempio fino in Russia dove Arlecchino diventerà Petroschka. E Pulcinella, un uomo semplice che sa ridere dei propri guai e delle sue due gobbe, una davanti e una dietro, che partendo da Napoli a Londra arriverà come Punch e lì gli scenari che gli si prospettano davanti lo vedono sempre protagonista di una serie di stragi, di ammazzamenti che immancabilmente si concludono con la sua condanna. Punch, quindi Pulcinella inglese, veniva condotto al patibolo dal boia oppure dal demonio direttamente portato all'inferno. In Francia per esempio Pulcinella diventerà Pierrot, la maschera che ancora oggi conosciamo con la lacrimuccia che cade sulla guancia e che incarna l'innamorato patetico, tristissimo, sfortunato. La tecnica di recitazione di questa arte rappresentativa che è la commedia dell'arte affonda le radici nella tradizione dei giullari e dei saltimbanchi medievali. Nelle ricorrenze festive, nel carnevale, questi artisti girovaghi intrattenevano il popolo nelle piazze e i signori nelle corti. Come lo facevano? Con delle farse, con delle scenette scontate di vita matrimoniale che si chiamavano mariazzi e anche con delle barcelette che erano le nostre barzellette non solo raccontate ma anche mimate con muoversi ridicolo che si sommava a un divertente modo di vestire molto appariscente e a un parlare molto spiritoso dove le parole erano accompagnate da gesti rapidi ed effetto. La commedia dell'arte nel 1500 vive sempre di più nei mercati, nelle piazze dove il popolo lasciava degli oboli spontaneamente a questi artisti. Faceva la gente comune proprio come noi adesso facciamo con gli artisti di strada, quando ci capita di vederne uno, magari nelle grandi città, nei nostri paesi non capita, hanno il cappello davanti e lasciamo cadere qualche spicciolo, qualche soldino. La vivacità di battute che si comprendevano immediatamente, un teatro così spensierato, così leggero, che aiutava a svagarsi come quello proposto dai commedianti dell'arte, non ebbe difficoltà a sbarazzarsi della concorrenza. Nelle varie corti infatti alcuni cortigiani si esibivano come dilettanti per una ristretta cerchia di spettatori altrettanto nobili che non avrebbero mai osato sottolineare il fatto che quelli non fossero bravi e tantomeno non avrebbero osato sottolineare che con tutta la loro cultura e la loro serietà questi erano noiosi. Pensate quanti erano tristi a corte. Si racconta che Maria Teresa, sovrana d'Austria, fosse così impegnata a governare bene il milanese che nella sua vita intera sorrise soltanto una volta e lo fece, si racconta, davanti a una pastiera napoletana, tipico dolce pasquale e in quell'occasione il marito, ormai rassegnato a star sempre serio, abbia affermato che per vedere sorridere nuovamente la propria moglie avrebbe dovuto aspettare la prossima Pasqua. Mai una gioia insomma, non era mai contenta questa Maria Teresa. Erano invece molto contenti quegli artisti, persone di diversa provenienza sociale e con differenti specializzazioni, che a metà del 1500 cominciarono a riunirsi in vere e proprie compagnie teatrali per dare vita a spettacoli complessi e professionali. Fu una grande rivoluzione questa sia tecnica che sociale, perché garantì alla gente di teatro una vita dignitosa e costrinse a mettere a punto un modo nuovo di lavorare in scena. Con la commedia, il teatro, da dilettantistico, ritualistico come quello delle sacre rappresentazioni, diventa un vero e proprio mestiere. Con il termine arte associato alla parola commedia si vuole proprio intendere professione, mestiere. Diviene perciò determinante la professionalità degli attori, che sono comici di mestiere, che si appoggiano alle proprie risorse vocali, mimiche, gestuali e non si basano su un testo scritto interamente, ma si appoggiano a un canovaccio, una traccia sulla quale sviluppano la propria capacità di improvvisare come ottimi attori. I protagonisti di questo teatro dovevano essere bravi, bravi nei gesti, bravi nell'uso del linguaggio e dovevano avere una grande fantasia associata alla capacità anche di coordinarsi con gli altri attori durante la scena, per cogliere la battuta, cogliere il destro, essere rapidi nel succedere in questo senso, l'imprevisto sapevano governarlo. Questi attori si spostavano su un carrozzone che di volta in volta diventava palco attorno al quale il pubblico si radunava, nelle piazze e anche nelle corti, dove a questi non sembra vero di potersi divertire. E poi via via queste compagnie divennero tanto richieste che gli stessi attori affittavano dei locali e facevano pagare un biglietto al pubblico che voleva intervenire. Pensate che nella sola Venezia c'erano più di 20 teatri pubblici, erano di proprietà di famiglie nobili che li appaltavano a impresari privati. Alcuni erano destinati alle opere musicali e frequentati soprattutto dalla nobiltà, ma altri come il San Samuele, il San Luca e il Sant'Angelo mettevano in scena commedie ed erano frequentate sia da popolani che da borghesi. Le compagnie, terminata la stagione più ricca, quella del carnevale, iniziavano delle tournée, dei giri nelle principali città del centro nord e c'era una forte rivalità tra le compagnie, rivalità dalla quale emerse il teatro dell'arte fu una rivoluzione, non solo per quanto riguarda la professionalità degli attori, ma anche per la presenza delle donne in scena. Nell'antichità e nel medioevo era considerato disonorevole per una donna salire sul palcoscenico e ancora nel 600 a Londra, nelle commedie shakespeariane, le parti femminili venivano affidate a uomini o ragazzi, anche se qualche donna probabilmente recitava mascherata, come risulta anche dal film Shakespeare in Love, se lo avete visto e ve lo ricordate, che ha vinto anche degli Oscar qualche anno fa, dove si vede una giovane Gwyneth Paltrow che recita al contrario travestita da ragazzo. Di fatto, con contratto redatto da un notaio di Roma, fu per la commedia dell'arte che, verso la fine del 1500, per la prima volta una donna, tale Lucrezia di Siena, in grado di comporre versi e di suonare strumenti musicali, fu ingaggiata da una compagnia che intendeva esibirsi seriamente, evidentemente, con tutti gli artisti in regola nel periodo di carnevale. Una bella innovazione, se pensiamo che soltanto nel corso del 1600 le donne avrebbero preso posto a pieno titolo nelle compagnie teatrali e a prezzo di una scarsa reputazione, forse anche perché con una sorta di emancipazione le donne che rappresentavano in scena erano sempre abili nel risolvere situazioni intricate, in perenne contrasto con personaggi con una mentalità antiquata che ne ostacolavano i desideri d'amore. Altro tratto distintivo della commedia dell'arte è l'utilizzo delle maschere di cuoio sulla scena. La maschera fissava il carattere, ben definito, riconoscibile, e lo amplificava non solo dal punto di vista della voce, perché se avete mai usato una maschera potete capire bene che amplifica la voce, tanto che il termine viene dall'antichità, dove era persona, per suonare, cioè fungeva da microfono o da megafono, come volete. Nell'italiano attuale diventa persona, da cui personalità, che vuol dire che ne abbiamo tanta di più, quanta più facciamo sentire la nostra voce, abbiamo approvazione. Ma tornando alla commedia dell'arte, la maschera è quella che mi fa capire che quando Arlecchino arriva in scena io so già che combinerà qualche pasticcio perché è un servo ingenuo, uno sciocco che si caccia sempre in qualche guaio per guadagnare qualche soldo, siccome è squattrinato. E se vedo arrivare Cafitano fracassa, a parte l'abito sgargiante, la barba, i baffi, vedo una spada fuori misura che penzola su un fianco e immagino che impacciato com'è condurrà, come sempre con dispiego di forze inutili, smisurate come la sua spada, una battaglia che perderà, vantandosi però di averla vinta e dunque spaccone e vanaglorioso, cioè che si dà delle arie, che si crede, come diciamo in sardo. Così, pantaloni di cui vedete due maschere, una per stato d'animo, è il vecchio mercante avaro, spilorcio, che si lamenta perennemente di avere pochi soldi perché ne vorrebbe sempre di più. Lo zanni, brighella, il serbo furbo, che poi con goldoni diventerà il servo saggio e fedele. Balanzone, di cui vedete la maschera con dei grossi sopracciglioni folti e stopposi, è il più chiaccherone e racconta storie di tutta la commedia dell'arte. Parla con uno spiccato accento bolognese e vuol far vedere che sa tutto di lettere, di medicine, di scienza, dimostrando così soltanto una grande presunzione. Pulcinella, che aveva una gobba davanti e una dietro, ma riusciva a ridere dei propri guai. E infine, qui rappresentata, la giovane colombina, che recita senza maschera e però incarna il tipo della servetta che non si fa ingannare. È contesa ed è molto desiderabile perché graziosa. Le maschere provenivano dalla tradizione regionale e dunque intorno a Roma troviamo Meopatacca, Rugantino, Sandrone, in quella intorno a Torino Gianduia, Giuppino, intorno a Milano Meneghino, Beltrame. A Napoli ancora Coviello e per ultimo, ma non ultimo, citiamo Capitan Matamoros, la Mazzamori, perché così li facciamo fuori tutti. Gli intrecci però, che così tanta fortuna avevano portato al genere, basati su complessi intrighi, avventure sorprendenti, colpi di scena che sfociavano in un lieto fine, finirono per diventare complicati. Complicati e assurdi e, per di più, ripetitivi. Il giovane innamorato si comportava sempre nello stesso modo, il vecchio era sempre tirchio, il servo furbo era sempre furbo e la servetta scaltra idem. I personaggi fissati, cristallizzati, fossilizzati nelle loro maschere, essendo ormai sulla scena da 200 anni, si potrebbe dire, erano prevedibili ed erano scontati e, per conquistare il pubblico, i comici cercavano allora di ricorrere a battute sempre meno eleganti, per non dire volgari. Queste battute facevano presa sul pubblico. Se qualcuno di voi vede spettacoli di intrattenimento, ce ne sono alcuni in tv, quiz, per esempio, mi vengono in mente, avrà presente che è facile che il conduttore scada in battute che, proprio per la loro immediatezza, sono comprese da tutti e magari li per li fanno ridere, ma alla lunga diventano pesanti e, se fate bene attenzione, in certi quiz ritrovate persino le maschere fisse. La buona sorte, la morte, l'atleta sfisicato, è, bisogna attualizzare un pochino. Così per la commedia dell'arte, le battute erano sempre le stesse, avete presente quei comici che ripetono delle espressioni divertenti perché così noi le ripetiamo con loro? Ecco, così facevano nella commedia dell'arte in declino, ma lo facevano con battute scadenti e con gesti sconci, scurrili, però di facile presa. E poi sempre raccontavano storie strampalate, caotiche, che alla fine era fastidioso seguire, non costituiva più uno svago perché, se facciamo fatica a capire, anche oggi non è divertente. L'illuminismo porta un vento nuovo, come avevamo detto, perché porta la ragione e la cultura e l'educazione come ideali e dunque molti attori che non intendono fare scadere la propria arte in bassezze e cedere al divismo che lascia poco alla bravura, cominciano a collaborare con intellettuali e comediografi, mettendo a disposizione la propria esperienza di scena e il proprio talento. E anche per questo molte trame, ridotte in un primo tempo a rozzi e schematici canovacci, acquistano una forma più compiuta e diventano veri e propri testi di riferimento dei copioni. La commedia dell'arte non si estingueva così. Molière nel seicento aveva imparato i segreti dell'arte dai comici della comedia italienne e così farà Goldoni, che sin da ragazzino frequenta diverse compagnie di attori condividendone la vita e imparando giorno dopo giorno il loro mestiere. Ebbe tanta passione Carlo Goldoni fin da piccolo per il teatro, che cominciò a scrivere commedie. Goldoni era un illuminista e quindi era convinto che l'arte dovesse servire ad educare e ad educare le persone reali. Dunque nelle sue commedie volle rappresentare sul serio la società del Settecento e quindi inserì personaggi ispirati alla vita reale che conducevano vite normali senza cadere in assurde complicazioni e nello stesso tempo non trascurò di inserire le maschere. Perché vi chiederete? Per non deludere il pubblico, perché il pubblico era abituato alle maschere, vi era affezionato in qualche modo. Poi dalle commedie di Goldoni piano piano le maschere spariscono e la prima commedia di Goldoni dove non ci sono maschere sarà la locandiera, che voi avete visto a teatro qualche lezione fa grazie a YouTube. Ve lo ricordate come era strutturata la locandiera? Ve lo ricordo io, in tre atti e infatti è un dramma borghese. Nella tradizione classica le tragedie erano in cinque atti di solito e le commedie, di drammi borghesi, in due o tre. L'atto è una parte della commedia o anche tutta la commedia se si tratta di un atto unico. Da un atto all'altro, a sipario chiuso, si può cambiare il fondale e determinare quindi un cambio di luogo. Oppure una ellissi, che vuol dire un salto di tempo, che coincide appunto spesso con i passaggi da un atto all'altro e a volte coincide con il passaggio tra le singole scene. L'ellissi di tempo, il salto temporale, può essere un flashback, un salto all'indietro, con il quale si raccontano dei fatti accaduti prima del tempo della narrazione, con l'espediente per esempio l'anno prima, il giorno prima, che in italiano si chiama analessi, oppure possono essere dei salti nel futuro, che in italiano si chiamano prolessi e in inglese si dice flash forward, una cosa del genere, abbiate pazienza per il mio inglese, e che c'è quando si anticipa qualcosa che dovrà accadere, per esempio non sapeva che a settembre sarebbe partito per Parigi. Ogni atto o l'intero testo teatrale, se non esistono atti, è diviso, e quindi è un atto solo, è diviso in scene. Una scena dura fino a quando non entra in scena o esce di scena uno dei personaggi. Scene e atti, come avete capito, sono indicato con i numeri romani. Un testo molto suddiviso in atti e scene sarà movimentato. Abbiamo detto la Lucandiera a primo atto 23 scene, vuol dire che ci sono 23 uscite e entrate di personaggi e quindi di conseguenza un testo con pochi cambi di scena e pochi atti sarà un po' più statico, un po' come per le nostre presentazioni. Qui ho voluto illustrare la riforma di Goldoni in un modo che spero sia abbastanza immediato. Vedete che nella commedia dell'arte il linguaggio era dialettale e poi nelle commedie di Goldoni diventa veneziano, simile molto anche al nostro italiano attuale, e poi francese e così via. Vedete i personaggi prima e dopo la riforma, così gli attori, così il pubblico e così anche soprattutto gli intenti, dove l'intento della commedia dell'arte era esagerare, modificare la realtà per riuscire a divertire a tutti i costi e invece l'intento della commedia di Goldoni, illuminista, è rappresentare la realtà borghese, la realtà nobile o popolare, ma così com'è, senza la prerogativa di cambiarla, perché il fine non è cambiare la realtà, ma accettarla e cercare di fare in modo che sia come meglio può essere grazie al fatto che i personaggi, proprio come buoni illuministi, ragionano. I comici dell'arte non furono mai dei ciarlatani o dei buffoni, ma furono artisti che anche attraverso uno studio attento dei modelli antichi, dell'esperienza greca, cercarono di nobilitare la propria professione, allontanandosi quanto più possibile dal mondo dei perdi tempo e dei saltimbanchi a cui tendenzialmente venivano accomunati. Nella commedia dell'arte l'attività dell'attore non era quella di chi studia a memoria un testo, ma quella di chi cerca di rendere viva la rappresentazione attraverso il proprio talento, la propria capacità inventiva, creativa, le abilità fisiche che consentivano a questi professionisti di compiere movimenti spettacolari, acrobazie e una serie di attività che catturavano l'attenzione del pubblico. La ricca tradizione che appartiene ormai al patrimonio immateriale italiano è stata mantenuta viva nel corso del 1900 da personaggi come Ferruccio Soleri che è vivente a 90 anni di cui 60 passati come Arlecchino sulle scene dei teatri di tutto il mondo a fare apprezzare la commedia dell'arte e poi Dario Fo che col suo teatro è arrivato a vincere un Nobel e continua anche grazie a un'opera paziente di abili artigiani mascherai su tutti per esempio la famiglia Sartori. Nel 2020 la commedia dell'arte con le sue maschere, i suoi temi vicini alla cultura popolare, la fame, i rapporti con il potere, il rispetto della natura, le relazioni tra i sessi, le superstizioni viene studiata e attualizzata a Reggio Emilia. A Reggio perché è lì che Antonio Fava se ne occupa con passione che si è trasformata in impegno, l'impegno a tenere in pugno l'attenzione della platea, il vero tradunion che lega la commedia dell'arte al teatro di intrattenimento moderno e contemporaneo. Grazie. 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 Grazie.